eccoci ragazzi buongiorno e bentornati sul mio canale nuovo video di approfondimento tech sul mondo apple in questi giorni vi ho parlato di iphone 16 addirittura iphone 17 dei nuovi mac parleremo nei prossimi giorni anche del mac mini abbiamo parlato praticamente anche dei nuovi ipad ora manca soltanto il sistema operativo come bombe dell'ultima ora parleremo infatti in questo video degli ultimi leaks proprio riportati questa domenica proprio ieri per quanto riguarda ios 18 non ha parlato niente che proprio di meno marx gorman di bloomberg che quindi ha sganciato delle bombe molto interessanti mettetevi comodi allacciate le cinture e sentite bene quello che ho da dirvi in questo video come sempre prima di iniziare vi invito a supportarmi tramite lo sponsor del video che è nebba ogni acquisto che farei sul canale quindi sul sito supporterete il il mio canale quindi mi raccomando vi saranno videogiochi nuovi di gioco del passato gift card abbonamenti chi più ne ha più ne metta con prezzi strascontati e soprattutto iscrivetevi sul canale delle offerte di telegram per tantissimi sconti giornalieri vi ricordo anche se non cercate e non trovate il prodotto che stavate cercando vi basterà cliccare su uno dei link che vi si aprirà amazon che rimane collegata alla mia affiliazione per quel momento cercare il prodotto raggiungere nel carello e anche in quel modo mi supporterete ma non ci perdiamo in chiacchiere perché la nuova diciamo così rubrica di newsletter power on di mark gorman ha sganciato delle bombe interessantissime su iOS 17 o meglio su iOS 18 per abbandonare quindi finalmente iOS 17 che sicuramente è stato uno dei sistemi operativi poco innovativi a livello proprio di novità di introduzione iOS 18 finalmente dovrebbe portare un po' di ventata e di aria fresca ha portato innanzitutto due informazioni importantissime tra cui la prima la possibilità di poter personalizzare le icone infatti dichiara proprio sulla sua rubrica potrai rendere blu tutte le tue icone social o verdi quelle ad esempio quella della finanza quindi la possibilità di cambiare il colore delle icone alle app cosa che attualmente la potevamo fare nel caso in cui creiamo ad esempio una scorciatoia ci dedicavamo un'icona particolare e quell'icona potevamo poi virtualmente personalizzarla seconda novità interessante che ha detto di iOS 18 che secondo le sue fonti è praticamente confermata la possibilità di mettere liberamente le icone appunto dove vogliamo nella nostra schermata quindi non avremo più una sorta di griglia predefinita questo permetterà anche di posizionare al meglio dove vogliamo che tipo di grandezze vogliamo il tipo di widget perché come sapete c'è la classica griglia dello schermo che ci impone di mettere le icone sempre nello stesso modo deve riempire gli spazi e via dicendo secondo le sue informazioni iOS 18 ci permetterà di personalizzare liberamente questa funzionalità ma nella sua rubrica proprio di ieri ha sganciato una bomba interessantissima quindi l'AI l'intelligenza artificiale che sta per arrivare con iOS 18 introdurrà tantissime funzionalità e micro funzionalità che dovranno rendere tutto più veloce e più dinamico all'interno del nuovo iOS 18 ha riportato 10 funzioni che praticamente saranno abbinate all'intelligenza artificiale sentite bene parla di trascrizione dei memo vocali risposte suggerite nelle email oppure ai messaggi ritocco fotografico emoji generate automaticamente in base al contenuto del messaggio dell'utente quindi capisce il contenuto che stiamo scrivendo e dovrebbe abbinare delle emoji particolari per rendere appunto più interattivo e dinamico il messaggio ricerca web quindi su safari migliorata, ricerche più veloci e affidabili sullo spotlight interazioni con Siri, versione più avanzata di Siri progettata anche per l'attività in movimento strumenti di sviluppo per l'Xcode e inoltre si parla anche di un rimpilogo intelligente delle notifiche perse o dei singoli messaggi, delle pagine web, strumenti di notizie, documenti, note e tanto altro ancora hanno dichiarato o meglio Kurtzman ha dichiarato che tutte e gran parte di queste funzionalità avranno necessità di poche risorse da parte del dispositivo mentre sembrerebbe che Apple abbia intenzione anche di implementare cose molto più carcate quindi con un supporto molto più importante da parte del dispositivo con l'AI e in quel caso si parla di un'elaborazione tramite il cloud e Apple sembrerebbe che promuoverà i vantaggi per la privacy appunto di questo nuovo piano per fare in modo che per spingere di più le funzionalità delle AI dovremo abbinare appunto probabilmente un abbonamento sul cloud dovremo avere qualche tipo di spinta sotto quel tipo di funzionalità sta di fatto che vogliono veramente puntare molto su questa cosa dalle piccole funzioni alle funzioni con molta più elaborazione di calcolo al momento ha sganciato queste belle bombette quindi preparatevi perché nei prossimi giorni torneremo sull'argomento con nuove informazioni in anteprima all'X su quello che saranno poi le funzionalità definitive di iOS 18 siamo al 27 maggio vi ricordo che il 10 di giugno ci sarà la WWDC dove sarà svelata integralmente l'intelligenza artificiale poi iOS 18 sarà svelato in concomitanza anche di questo evento e poi sarà ripreso più avanti con il rilascio come sempre atteso per il mese di settembre fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e cosa vi piacerebbe vedere nel nuovo iOS 18 vi auguro una buona giornata grazie per il supporto anche a questo video vi ricordo di Neb e Telegram per supportarmi noi ci vediamo ad un prossimo video grazie a tutti